Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi location un po' insolita, ci troviamo nella mia cucina, ma questo video sarà il video tag La Cucina secondo me ideato da Daniela, che si bella 72 che mi ha taggata, e da Jessica, Miss Jessie Makeup, le quali grandi appassionate di cucina come sono, hanno appunto ideato insieme queste 10 domande dedicate alla cucina. Sinceramente io non sono una cuoca brava come Daniela o Jessica, però mi considero a modo mio una appassionata di cucina perché amo mangiare bene, mi piace comunque sperimentare e provare ingredienti sani appunto per cucinare in maniera salutare, e quindi sono ben lieta di rispondere alle 10 domande del tag. Giù nell'info box vi lascerò il link al canale di Daniela e anche quello di Jessica, andatela a trovare perché sono due ragazze splendide, e vi dico subito ragazze che lascio il tag aperto, per cui tutte quelle di voi che o nei commenti o con un video volessero rispondere a loro volta alle 10 domande, sietele benvenute. Iniziamo subito, leggerò le domande qua dall'iPad. Prima domanda, il piatto a cui non rinunceresti mai? Sicuramente il primo piatto, io amo molto la pasta, ma mi piacciono anche i piatti unici come possono essere le lasagne, per cui i primi secondo me sono irrinunciabili, e in particolare la pasta che preferisco sono i fusilli cucinati o con il pecorino e il pepe, oppure gli spaghetti e aglio e peperoncino. Seconda domanda, qual è il piatto che ricorda la tua infanzia? Allora, più che il piatto è una merenda ed è pane e nutella, lo so che è un classico, ma quando ero piccola mia nonna, quando magari io giocavo con le mie amiche, poi ci preparava queste bellissime merende a base di pane e nutella, prendendo quel micone di pasta dura classico che si affetta, e poi si riempie di nutella e noi ce lo sbaffavamo, e ogni tanto ancora adesso magari qualche fetta di pane e nutella ci scappa, anche se non bisogna esagerare. Terza domanda, dolce o salato, il tuo preferito? Allora io in generale preferisco il salato, e dirò una banalità dicendo che secondo me il piatto salato a cui non rinuncerai mai è la pizza, perché comunque la pizza è già di per sé un piatto unico, mi sazia, mi soddisfa anche proprio dal punto di vista della vista e dell'olfatto, io ci faccio molto caso a questi sensi, in cucina, e quindi per me la pizza è il piatto ideale. Quarta domanda, quali sono i tre ingredienti che non possono mancare nel mio frigorifero? Allora secondo me le uova innanzitutto, dove io per uova intendo quelle genuine rospanti che producono le galline di mia socia. L'altro ingrediente è sicuramente il parmigiano reggiano, perché di nuovo mi faccio un bel luogo fritto, do una spolverata di parmigiano e ho una cena completa. E il terzo ingrediente è credo il latte, perché comunque il latte ci accompagna dalla colazione fino volendo anche alla cena, mi trovassi proprio in impasse, sbriciolo un po' di pane nel latte, mangio, e quindi insomma le cose proprio di base secondo me sono quelle. Quinta domanda, qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi più spesso? Sicuramente questo forchettone in legno che vedete, e vedete anche un pochino sporco, scusate, perché sto cucinando una minestra di verdure, di là sulla stufalezza che poi vi mostrerò dopo, e quindi con questo mescolo il mio minestrone, e questo è l'utensile culinario che utilizzo di più. Sesta domanda, hai mai usato la cucina per conquistare un uomo o un ragazzo? Sicuramente sì, mi ricordo che da fidanzati tentavo di diciamo rabbonire il più possibile il mio marito, prendendolo per la gola, non è che facessi chissà cosa, ma ad esempio con qualche torta, qualche panna cotta dolce, oppure facevo caso con mia mamma quando facevano la spesa, non far mancare mai alcuni dolci che mi piacevano particolarmente, che ne sono fiesta, cose così, e quindi sicuramente, nonostante non sia una cuoca, ho utilizzato anche io a mio modo la cucina per... Settima domanda, a che età hai cominciato a cucinare? Allora io mi sono sposata giovane, a 23 anni, quindi sicuramente mi sono dovuta un po' arrangiare, con la classica bistecca uomo fritto, poi con gli anni insomma sono migliorata sicuramente, adesso credo di essere abbastanza capace comunque a cucinare, come ripeto faccio, lo so, ragù, la minestra, le lasagne, quindi insomma io dico che sono una pessima cuoca, ma tutto sommato, per cui direi attorno ai 23-24 anni. Ottava domanda, cucini piatti tipici della tua regione? Più di tanto no, io sono piemontese e ci sono alcuni piatti tipici che ne so, adesso mi viene in mente, non so neanche se dico una cosa giusta o errata, che ne so il bollito, ma ad esempio il bollito non piace, è un tipo di cucina che non amo particolarmente. Preferisco ad esempio la cucina ligure, per cui cucino il pesto, oppure la cucina emigliana, mi piace fare il ragù, le lasagne, a modo mio, ma li faccio, per cui piatti tipici della mia regione, più di tanto no. Nonna domanda, qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? Lo sto cucinando in questo momento, come vi ho detto adesso, ragazze, nella stanza adiacente dove ho la stufa legna, sto cucinando la minestra di verdura, per cui ci spostiamo brevemente, perché voglio mostrarvela. Come promesso, ragazzi, ci troviamo nella stanza adiacente alla mia cucina, dove innanzitutto vi voglio mostrare brevemente il mio gatto rosso ciccio, che sta dormendo nella sua culla, accanto proprio alla stufa legna che vi dicevo. È una stufa legna che ho installato da poco, e sulla quale mi diletto, è proprio la classica cucina economica, mi diletto proprio a cucinare alcuni piatti caratteristici che devono cuocere a lungo e lentamente, come ad esempio questa minestra di verdura, che è appunto l'ultimo piatto che ho cucinato e che in pratica sto cucinando. Sinceramente anche per non consumare troppo gas, e comunque sia poi riesce proprio meglio, riesce migliore il gusto, perché veramente sulla stufa legna i cibi cuociono lentamente, e quindi insomma, io da quando cucino in questo modo, devo dire, mi trovo molto bene, e mi sto anche appassionando molto di più perché comunque il risultato mi piace, e quindi insomma, questi piatti così li cucino su questa stufa. All'interno di questa minestra ho messo anche, oltre le verdure, il farro, che mi piace molto, io amo molti cereali, quindi insomma, per questa sera ci sbaffiamo questa bella minestra. Rieccoci in cucina per un'ultima domanda che è descrivi con un aggettivo cosa significa per te la cucina. Allora, secondo me la cucina deve essere salutare. Io ve ne sto rendendo sempre più conto che credo fermamente che siamo ciò che mangiamo, e vedo proprio che cambia il mio stato di salute, il mio umore, in base a quello che mangio. Questa è la mia opinione. Io saluto ancora, ringrazio Daniela per avermi taggata, ringrazio anche Jessica per aver ideato insieme a Daniela questo tag, mi mando un grosso bacione, e se vi fa piacere ci vediamo alla prossima. Ciao!